Una nuova stagione per i giovani professionisti lucani grazie al nuovo pacchetto agevolativo Crea Opportunità. Nel commentare i tre avvisi pubblici indirizzati a micro e piccole imprese, a liberi professionisti, ad associazioni e società di professionisti, il consigliere regionale del PD Mario Polese esprime piena soddisfazione. Tale opportunità, sottolinea, consentirà a tanti giovani non solo di sostenere per la prima volta le spese di gestione all'inizio della loro attività, ma anche di candidare nuove idee progettuali. E' una notizia che aspettavamo da tempo, afferma Polese, che ricorda un suo ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 22 aprile scorso sul sostegno all'innovazione alle attività professionali intellettuali. Con questo documento si impegnava la Giunta regionale a far sì che negli avvisi da emanare fosse previsto un bando destinato alle esigenze dei giovani professionisti. Oggi, conclude Polese, finalmente i bandi regionali anche qui in Basilicata.